Oggi siamo a Roma, Palazzo Ferraioli, per workshop molto importanti che riguardano a tutto tondo il segmento turismo con due nodi fondamentali. Quello che è il turismo ecosolidale, nel quale ci sono varie tematiche da affrontare durante il workshop e poi il turismo enogastronomico. Torniamo però al turismo ecosolidale in compagnia di un rappresentante dirigente di Pramerica per spiegare e raccontare intanto che cos'è Pramerica e che cosa fa. Pramerica è la controllata di Prudential Insurance Company of America, opera dal 1875 nel mondo e da 25 anni in Italia. Siamo molto attenti alle tematiche e alle esigenze degli operatori che sono sul mercato. Solitamente il turismo è gestito da piccoli e medi imprenditori, da famiglie e quindi noi abbiamo orientato il nostro core business alle famiglie, ma a quelle persone che solitamente gestendo l'attività hanno bisogno di una consulenza fiscale, di tutela e soprattutto di passaggio generazionale. Nel segmento settore, peraltro, servizi alla famiglia e alle famiglie, voi entriamo nello specifico che cosa offrite? Allora, noi assumiamo i rischi delle persone. Durante il corso della nostra vita noi siamo in presenza di un'infinità di ale, ma una cosa purtroppo nella nostra vita accade che è il rischio vita. Sostanzialmente non ci sono possibilità eventuali che si possa verificare o meno. Quindi nel momento in cui una persona viene a mancare in un contesto familiare o in un contesto economico, è un'azienda che è un albergo, crea dei danni. Ecco, siamo con una forza ben specializzata pronti ad affrontare un rischio prevenendo questo accadimento. Voi non siete presenti solo in Italia, ma anche nel resto del mondo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo presenti in 40 paesi. Abbiamo affrontato da poco anche l'esperienza cilena. Prudential è veramente un colosso internazionale. La definirei una rocca forte finanziaria. Abbiamo dei rating di solvibilità elevatissimi, gestiti da tutte le maggiori imprese che strutturano questo monitoraggio. Quindi veramente diamo una sicurezza finanziaria alle persone e agli operatori che gestiscono il turismo e che rappresentano il nostro futuro, anche quello del mio paese che è l'Italia. E con lei questo futuro come lo vede? Da direttore di filiale, da persona esperta che ha visitato tantissime realtà appunto di piccole e medie imprese che sono poi anche il polmone vero di questo nostro bel paese Italia. Come vede l'immediato futuro? Non facciamo i programmi a lunga scadenza, ma cerchiamo di venire un pochino più vicini a quel che sarà. Del resto ci stiamo avvicinando anche ad una nuova grande stagione estiva per il nostro bel paese e soprattutto siamo pronti a vivere i sei mesi di Expo. Allora io sto notando un rimbalzo tecnico, cioè quindi in maniera positiva il mercato nonostante una fase decrescente sta rimbalzando in maniera estremamente positiva. Vuoi per il dollaro verso l'euro, vuoi per il job act che ha dato comunque sicuramente anche un impulso alle assunzioni, vedo comunque un orizzonte migliore e è quello che mi auguro sostanzialmente. Però a breve termine sto vedendo uno spiraglio, un orizzonte molto positivo rispetto agli anni passati. Allora la famiglia si è allargata e adesso presentiamo tutti i componenti. Allora un saluto ai miei colleghi, ci sono Roberto Mele e Gianluca Di Bella, senior sales manager di Pramerica da qualche anno che collaborano con la nostra struttura con ottimi risultati, c'è Stefano Antonini, un life planner junior ma che sta dando ottimi risultati anche lui e Ugo Buonaiuto che ha un passato da matematico ed è un piacere averlo in squadra, quindi sono tutte persone d'eccellenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.